Rimossa parte dell'area di transennamento in piazza del plebiscito a Napoli e liberate finalmente le griglie sulla pavimentazione, che nei mesi hanno dato vita a tante polemiche, si tratta delle grate che rientrano nei lavori per la camera di ventilazione della metrolinea 6, tre più piccole che si trovano all'interno dell'emiciclo della piazza nelle vicinanze del porticato, una più grande quella che ha scatenato lo scandalo vero e proprio, poi spostata dalla posizione originaria e completata di fronte alla prefettura. Sono un importante punto d'accesso per l'intervento dei tecnici, delle squadre di emergenza e dei vigili del fuoco in caso di necessità e non potranno essere ostruite durante manifestazioni o concerti, come accade già per quelle in piazza Dante. I lavori durati circa due anni hanno avuto però molteplici stop, a partire dall'alzata di scudi da parte di comitati e associazioni scattata dopo l'annuncio del progetto, la grata più evidente che si sarebbe dovuta trovare in piazza del plebiscito venne definita uno scempio, osteggiata anche dalla soprintendenza, una polemica che costrinse il comune a un dietrofront e alla decisione di posizionarla all'ingresso del palazzo della prefettura, quindi a bordo piazza.